Siamo ad Expo Scuola e alla conferenza sullo start-up del Consiglio dei Ragazzi. Siamo con il dottor Ruzzante, buongiorno, responsabile dell'ufficio iDemocracy per il Consiglio regionale del Veneto. Le chiediamo cosa pensate all'interno dell'istituzione del Consiglio regionale e della volontà da parte dei giovani di avvicinarsi alle istituzioni, anche con le tecnologie? Ecco, soprattutto le tecnologie, perché i giovani sono portati proprio alle nuove tecnologie, quindi hanno facilità di approccio con questo mezzo qua. Ma devo dire una cosa, noi nei nostri incontri che abbiamo fatto, molteplici incontri nelle scuole superiori per i ragazzi che facevano i 18 anni, quindi si apprestavano ad andare a votare, ci siamo accorti che non c'era assoluta conoscenza di che cos'erano le istituzioni. Non sapevano che cos'era il Consiglio regionale, non sapevano chi era il Presidente del Consiglio, queste cose qua, a parte i personaggi più famosi, però non conoscevano com'era strutturata l'organizzazione politica nazionale, regionale o locale. Ma la cosa che ci chiedevano soprattutto era, ma se voi attivate un sistema di partecipazione, che è quello che a noi interessava fare, chi c'è dall'altra parte? Ci chiedevano. Cioè la paura loro è di non partecipare, loro vogliono partecipare, vogliono influire, c'è un grande desiderio di partecipare. Basti pensare ai social network, il successo dei social network, di Facebook per dire, rispetto a tutti quanti gli altri siti che si facevano una volta, adesso ormai sono diventati obsoleti, è che tu, l'utente, ha la possibilità di costruire il sito come vuole, di partecipare al sito, di essere protagonista di quel sito e quindi questa è la strada giusta. Questa idea di fare un network dei consigli dei ragazzi, cioè di cercare di fare in modo che nelle scuole, nei paesi, si crei una sorta di istituzione per fare conoscere ai ragazzi come funziona l'istituzione stessa e poi avvicinarli così al mondo della politica ma soprattutto al mondo della partecipazione. Questa è la vera democrazia, secondo me. Quindi si può appunto praticare democrazia sin da piccolini, insomma, sin da giovani giovani? Tu pensa che uno dei progetti che abbiamo fatto, che ha avuto più successo in consiglio regionale, è stato Bla 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 e Democrazia e Minori, era un cartone animato sui tema della democrazia partecipativa fatto dai ragazzi delle elementali di una scuola di Cassola che poi si è diffuso in tutta la regione. E' questo cartone animato costruito interamente dai ragazzi con mezzi di alta tecnologia, aiutati da un insegnante, però i ragazzi hanno avuto facilità nel fare le riprese, nel fare i testi, nel fare l'animazione di questo cartone animato. E' un cartone animato che ha vinto tantissimi premi a livello nazionale e internazionale con un linguaggio di una semplicità ma molto diretto e molto efficace ed erano ragazzi delle elementari. Quindi noi siamo sempre più giù, siamo partiti dai ragazzi di 18 anni, poi siamo andati alle medie, siamo scesi alle elementari, mi sa che dovremmo andare all'asilo. Perché i ragazzi quando nascono subito capiscono che ci sono delle regole, che si sta in un gruppo, che si deve fare le cose insieme. Certo, infatti c'è una famosa psicanalista francese che dice che tra i 9 e i 10 anni già si comincia a sviluppare un senso di cittadinanza nei bambini, un senso di essere parte di una comunità. E' proprio così, tra l'altro i ragazzi trasmettono un grande entusiasmo. L'abbiamo visto stamattina l'inaugurazione di questa esposcuola, l'entusiasmo che hanno messo i ragazzi nelle loro rappresentazioni, si parlava dei 150 anni in questo caso dell'Unità d'Italia, però in tutte le cose che loro fanno. E' quell'augurio che io mi faccio, faccio anche a me stesso, è quello che attraverso l'entusiasmo dei ragazzi arrivi anche alla politica dei più grandi. Ok, lo speriamo sicuramente tutti, la ringraziamo e le auguriamo un buon lavoro. Grazie.